Il mio solo visitatore. Sono pronti per qualcosa che sento il profumo. Se lo ho sistemato bene, credo, Goldie. Scusa, Wendy. È una confusione mentale. Sei figlio a vederti così. Puoi chiamarmi Goldie. Beh, vedo i video. È una bella nuova. È una bella nuova. È un perfezione. È una bella nuova. È una bella nuova. È una bella nuova.